Ciao a tutto il pubblico di WebTV Studios, sono Serena Boselli, un'insegnante di danze orientali di Roma. Sono qui insieme al mio gruppo Najà e ve le presento. Lei è Deborah, Evelina, Valentina Sharifa, Amida e Gaia Canichella. Ci sono esibite qui al Festival dell'Oriente, ci troverete nei giorni a parte oggi, ci troverete anche il 25, il 28 e il 1 maggio. Seguiteci in altri spettacoli, noi siamo un gruppo di professioniste di Roma e ci troverete anche il 19 maggio a Frascati, un evento che faremo, una manifestazione di danze orientali insieme a tante artiste e ospi. Potete seguirci sul nostro social su Facebook, io ho la pagina come Serena Boselli oppure il sito web serenaboselli.com e ci troverete anche i nostri spettacoli.com 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 iscriviti al nostro canale! iscriviti al nostro canale!